In questa puntata abbiamo anche modo di scoprire che in ambito di problemi sicuramente gravi ogni tanto ci sono anche buone notizie. Faccio una premessa, l'Unione Europea da molti decenni ha cominciato a combattere la tratta degli esseri umani, anzi devo dire che proprio era un qualcosa di cui quasi non si parlava a livello di media quando invece qualcuno ha cominciato. Penso per esempio con gratitudine a una magistrata che ho conosciuto tanti anni fa, Patrizia Tola si chiama, chissà se il mio saluto le arriva, e che appunto da italiana insieme con altri colleghi e colleghe ha fondato nell'Unione Europea proprio un gruppo di lavoro per combattere efficacemente la tratta di esseri umani. Un orrore che purtroppo comunque prosegue ma almeno se ne è appunto, se ne occupa continuamente qualcuno, le polizie di tutto il mondo cercano di schiacciare questo orrendo fenomeno e adesso abbiamo connesso proprio al reato della tratta di esseri umani anche qualcosa che ci sta molto a cuore, ovvero la gestazione per altri, qualcuno la chiama di fatto l'utero in affitto, di cui vi abbiamo più volte parlato proprio sulla scorta della capacità di individuare quali sono i punti cruciali nel nostro paese a livello di opinione per combattere l'utero in affitto. Chi è il nostro interlocutore? Ancora una volta l'associazione Pro Vita e Famiglia, e noi abbiamo Jacopo Coghe che ne fa parte e anche come autorevole comunicatore collegato con noi. Grazie Jacopo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Quindi c'è anche il nostro Toni qui con me che farà qualche altra domanda. Io voglio partire proprio da questa novità più specifica che ci fa ben sperare. Sì, una novità importante. La settimana scorsa una commissione del Parlamento europeo, perché sappiamo un po' che il Parlamento europeo funziona come quello italiano, prima di arrivare dei testi in aula passano attraverso le varie commissioni. Quindi una di queste commissioni, la cosiddetta commissione LIBE, la commissione per le libertà, ha votato un emendamento per rendere la pratica del lutero in affitto di paragonarla ad una schiavitù, alla tratta di esseri umani. Attenzione però, è una piccola vittoria, è un piccolo passo avanti, perché questa piccola commissione LIBE ha votato per rendere l'utero in affitto quello a pagamento come tratta di esseri umani, equipararlo a tratta di esseri umani, solamente quello a pagamento. Noi sappiamo che l'utero in affitto comunque sia a pagamento, sia il cosiddetto utero in affitto solidale, è una pratica aberrante. Ricordiamo che l'utero in affitto è quella pratica attraverso la quale due persone si dotano di un bambino affittando l'utero di una donna che lo gesta e lo partorisce, una volta partorito lo consegna alle persone che l'hanno ordinato, comprato, acquistato e tutto ciò viene regolamentato da dei contratti. Quindi in questo caso il Parlamento europeo, la prima commissione di commissione LIBE, ha detto quando si tratta di utero in affitto con fini commerciali e quindi c'è di mezzo una compravendita a un contratto deve essere paragonato alla tratta di esseri umani. Bene, prima vittoria, speriamo che questo sia solo il primo passo per arrivare ad una condanna totale a 360 gradi per la pratica dell'utero in affitto che essa sia a pagamento o che essa sia solidale perché c'è sempre lo sfruttamento di una donna e la commercializzazione di un bambino, un essere umano che è trattato come un prodotto che può essere acquistato o regalato, anche come i bambini non si comprano così anche non si regalano. Ecco, questo penso sia un ragionamento che possa mettere insieme le due pratiche, quella solidale e quella a pagamento. Anche perché caro Jacopo diventa ostico andare a distinguere nel dettaglio quando un utero in affitto solidale non nasconda in realtà un contratto commerciale. Esatto, esatto. Anche perché potrebbero essere dei contratti non registrati, ci potrebbero essere accordi di questo tipo. È una pratica orrenda, una pratica barbara. Siamo nel 2023, questa pratica dovrebbe essere veramente condannata. Bene anche che in Italia si è avviato l'iter con l'approvazione della Camera dei Diputati dell'affitto commerciale per tutti quegli italiani che andando all'estero commettono questo reato o possono essere punibili poi quando tornano in Italia. I bambini non sono un prodotto. Certo. Posso chiederti Jacopo le dimensioni del fenomeno, se sta in Europa comunque aumentando, se e come appunto si riesce a seguire una serie di cifre eventuali? Allora al momento in Europa ci sono solamente alcuni stati, solo in alcuni stati è legale la pratica dell'utrono affitto. Il bacino di utenza maggiore in questo momento è, pensate bene, l'Ucraina, un paese in guerra dove questo ci fa capire anche che tipo di pratica è l'utrono affitto. L'Ucraina è un paese in guerra, un paese che è completamente in povertà, dove le donne per avere, portare a casa qualche spicciolo in più, sono disposte a prestare il loro corpo come incubatrici. Però accadeva anche prima che scoppiasse la guerra, tu mi insegni. Sì, sicuramente accadeva anche prima, però ci fa veramente rendere conto anche se sono i paesi più poveri dell'Europa dove questa pratica è più diffusa, perché ovviamente in un paese ricco non è una ricca signora che si mette a prestare il suo corpo per gestare la gravidanza per un'altra coppia, questo mi sembra chiaro. Quindi qui è importante lo sfruttamento. È una pratica che andrà crescendo, è una pratica che ha un business di milioni e milioni di dollari, di euro e per questo anche in alcuni stati è regolamentata, come ad esempio negli Stati Uniti, perché poi c'è un guadagno anche di tutto ciò che gira attorno. Ci sono vere e proprie società che fanno dei intermediari, avvocati. C'è proprio un vero e proprio mercato dietro tutto questo. Io volevo anche osservare una cosa, proprio dicendo a Toni, oltre che a te Jacopo, di fare un commento se vi sembra un'osservazione peregrina la mia. Ma siamo in un'epoca in cui tutto quello che è business pian piano si vuole trasformare in qualcosa di etico, di sostenibile, di inclusivo e tanti altri aggettivi che in teoria sembrano far allontanare il, potremmo dire, il capitalismo, il turboprofitto ogni costo dall'orizzonte. E invece quando si tratta di questo, come mai tutto ciò viene messo da parte? Ma se posso permettermi, l'idea che mi sono fatta è questa, che oggi veramente il capitalismo deve guadagnare su tutto. Pensate che appunto parlavamo di maternità sorogata, quindi si guadagna sulla nascita, maternità sorogata e aborti. E lì c'è un guadagno. Si guadagna sulla morte, pensate a tutte le cliniche per l'eutanasia dove vengono portati i nostri anziani e malati perché sono un costo per la società e allora ci guadagniamo come una clinica che pagando 20-30 mila euro sopprima a pagamento il nostro anziano o la nostra persona malata. Il business non ha regole, l'importante è accrescere economicamente. Quindi ovunque si possa guadagnare si inserisce, che sia sulla vita, che sia sulla morte, che sia sul consumo. Noi quello che dobbiamo diventare è semplicemente dei consumatori perfetti. Però ecco Tony, tu, scusa Jacopo, sei stato chiarissimo, siccome ho solo un minuto voglio sentire in merito il parere di Tony. Ebbè, è ovvio che se non vengono poste delle regole, come ci ricordava giustamente il nostro esperto, purtroppo l'essere umano tende molte volte ad approfittare della propria libertà. Per cui ci auguriamo davvero che questo sia solo il primo passo del Parlamento europeo a tutela appunto dei novinati, delle famiglie e della persona, dell'essere umano in quanto tale. E già, lui giustamente nomina anche le persone che comunque sono nate anche attraverso questo meccanismo così antietico. Infatti è un'obiezione classica che viene fatta. Ma allora quei bambini cosa devono subire? Una bella domanda. Sicuramente questi bambini potrebbero essere dati in adozione a delle coppie ovviamente cercando di affidarli a delle coppie composte da una mamma e da un papà. Non si possono cancellare quei bambini ma non può essere fatta nemmeno una sanatoria sulla pelle di quei bambini che oramai già sono stati, diciamo, tra virgolette ottenuti con la pratica dell'utero in affitto. Certo. La tutela del minore è il nostro primo obiettivo. Non aggiungiamo ingiustizia, ingiustizia. Grazie a Toni che voleva concludere. Io ci metto solo qualche secondo per dirti Jacopo che comunque visto che andiamo inevitabilmente in zona elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, durante i prossimi mesi sarete voi a focalizzare e anche a rilanciare queste tematiche, mi auguro. Grazie. Grazie a voi, buona giornata.